dai taglia anche quello la quello lì lo togliamo perché ecco perché la diana tanto togliamo quello e così ci passiamo sotto tanto è marcio il resto viene via e togliamo il rinocidio forse forse sì perché tanto è parte che si rompe e si rompe sta cavola la cavola cos'è la cavola che è che deve portare l'argano? dici ho la ruspetta qua forse ci aveva ragione Jacopo eh anche quello quei due lì che almeno se metto il piede lì vado dentro fino al ginocchio in teoria ma quanta gente che c'è lì? che c'è lì? che c'è lì?